Quando mia sorella maggiore si è laureata e di conseguenza è iniziata a lavorare, la mia vita è cambiata. Io e lei siamo cresciuti insieme, facendoci forza l'uno sull'altro per oltrepassare ogni ostacolo. Lei è più grande di me e quindi abbiamo passato buona parte dell'infanzia a litigare. Il nostro rapporto si è stretto più che mai nel momento in cui si è trasferita a Roma per motivi di studio e probabilmente, perché ora, eravamo entrambi arrivati da un'unità in cui eravamo compatibili. Più le nostre vite andavano avanti per la loro strada, più per me le sue capacità diventavano evidenti, grazie anche ai suoi risultati. Dopo poco, infatti, ho deciso di mettermi in competizione con la sua mente, che per me sembrava un punto quasi inarrivabile, con la speranza che un giorno possa eguagliarla. Dopo anni di litigi abbiamo iniziato a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, condividendo gusti musicali o semplicemente amando le stesse cose. Quando viaggiamo il nostro rapporto si stringe molto, dato che passiamo molto tempo tra di noi, facendo di tutto e di più. Ricordo per esempio quando in Malesia, in un villaggio turistico, provavamo il tree climbing, un percorso ad ostacoli sugli alberi. In quell'occasione io ero posizionato davanti a lei e superavo gli ostacoli con ogni mezzo possibile, andando spesso in spaccata grazie al mio poco equilibrio, mentre lei, secchione anche in quell'occasione, si ammazzava dalle risate guardandovi. Lei ormai, oltre ad essere una mia fonte di ispirazione, è diventata una cittadina del mondo, e presto andrà a finire, che per vederla dovrò prendere un lungo aereo. Ma va bene così, perché so che un giorno, spero non troppo lontano, io la raggiungerò.